L'Officine Papage è una compagnia teatrale che raccoglie anime diverse, c'è chi viene dalla danza, chi viene dal teatro. Ci siamo riuniti intorno ad un'idea di fare teatro, ad una poetica che per qualche motivo, per diverse ragioni, abbiamo trovato simile. Per noi è importante parlare e trovare una risonanza immediata con la gente. In questo spettacolo stiamo cercando di raccontare le relazioni. Relazioni attraverso un gioco sulla coniugazione del verbo essere. E quindi stiamo cercando di indagare quali sono quei fili sottili che danno un senso vero a che cosa significa io sono, e chi è il tu per me, per noi. Noi è un accordo disaccordato e un disaccordo accordato. Noi è un mio compromesso. Noi è un più fragile. Noi è un mio disponibile. Noi è un mio spallato. E noi è un accordo da comunicare. Noi è l'uomo. Noi è la definizione di un io. Noi è chi ti fa vedere il cielo. Noi è chi ti guarda con un sorriso quando sei a terra. Il laboratorio serve proprio per confrontarci con più persone possibili. Per andare a chiedere e trovare i sensi dell'identità dei tu, dei lui, delle distanze che appunto legano questi pronomi personali. E quindi ci siamo lanciati all'interno di questo progetto di residenza in tre giorni di laboratorio offerto a chi vuole partecipare. Vorrei riprovare a fare l'esercizio del guardarsi negli occhi e vedere se si riesce andare oltre a quello che abbiamo visto in una dimensione di totale scoperta. Noi è adesso. Noi è sbagliato o però. Noi è gli altri. Noi è un momento o il momento in cui diventiamo qualcosa di più di io più tu più lui. Noi è comunità. Noi è stare insieme. Noi è famiglia. Noi è gruppo. Noi è la prima squadra. Noi è partita. Noi è collaborazione. Noi è crescita. Noi è specchio. Noi è espansione. In quel caso gli è il prendersi cura, il far provare al singolo una possibilità, farlo arrivare ad una possibilità che da solo non sarebbe possibile. Un po' per dare uno stimolo a una decodifica successiva del pensiero. In più ci serve perché appunto è una nostra modalità questa del fare lavoratore. Ci piace quando la gente sta bene, quando si sente a suo agio, quando si diverte. Ecco quello è un grande ritorno da parte nostra che riusciamo a inserire e a contenere appunto anche all'interno del lavoro. La traccia che in qualche modo in cambio noi abbiamo preso delle robe dalle persone e noi lasciamo delle cose a loro. E' un po' questa l'idea insomma e speriamo di farlo che succeda sempre insomma.